Consigliere Marocco. Per capire un attimino quello che andremo poi a votare stasera, quindi il piano finanziario, io mi prenderei un attimino di tempo per una piccola cronistoria. Il 30 aprile 2013, durante il Consiglio Comunale, veniva condivisa una relazione che gli uffici avevano fatto, dove all'interno di questa relazione si esprimeva la perplessità sul calcolo dei costi posti a base di gara per la vendita di seta, in quanto la contabilità analitica di seta non era mai stata fornita agli uffici di Chivasso. Nonostante questo, il piano finanziario del 2013 comunque viene approvato dal Consiglio. Il 26 settembre chiedemmo al Sindaco di conoscere i motivi, attraverso un'interrogazione naturalmente, i motivi che portarono a far approvare il piano finanziario del 2013, senza aver verificato i costi a base di gara, che hanno fatto lievitare i costi rispetto al precedente piano finanziario del 2012. Il 9 ottobre 2013 ricevemmo una risposta, non dal Sindaco ma dal responsabile dei servizi tributi, che ribadì che il preventivo finanziario del 2013 è stato calcolato per i primi sei mesi, in un modo, e nei secondi sei mesi sulla base dei costi posti a base di gara. E in quella risposta all'interrogazione erano sparite, sostanzialmente, le perplessità sulla contabilità analitica di seta. Il 22 ottobre 2013, vista la risposta all'interrogazione, chiedemmo copie in formato elettronico della contabilità analitica di seta, utilizzate per calcolare cose, i costi a posti a base di gara. Il 14 aprile 2014, dopo sei mesi, seta, Consorzio di Bacino 16, inviano al Comune di chi va su un cd contenente la contabilità analitica, a loro dire. Il 7 maggio 2014, il Comune mi comunica la disponibilità del cd. Io ho guardato questo cd, l'ho riguardato, mi mancava solo di guardarlo in trasparenza dalla finestra, ma di contabilità analitica lì dentro non c'è assolutamente nulla. Ci sono dei documenti non indicizzati, sparsi, che sfido chiunque, anche i professionisti, a leggere, a capire cosa c'è scritto lì dentro. Questa sera, 30 giugno 2014, Consorzio di Bacino Seta ci propongono un piano finanziario per il 2014, basato non più su solo sei mesi, ma su dodici mesi, sui costi a base di gara. Siamo sempre lì, sui costi posti a base di gara. Calcolati su cosa? Sulla contabilità analitica di Seta. Ecco, all'interno del cd dicevo che non c'è un bilancio analitico, quindi possiamo escludere anche noi amministratori, non soltanto il personale predisposto a leggere queste cose, di capirci qualcosa, perché io per stampare quei documenti, per leggerli ho dovuto ridurre, ridurre, prendere delle piccole zone e stamparle, non su una stampante normale, su una stampante a tre, e non capirci lo stesso nulla, perché? Perché le quantità di dati inserite non ti permettono di cogliere assolutamente nulla. Il contenuto del cd si basa sul 2010, sulla contabilità analitica, a loro dire, ma del 2010. Non si hanno notizie su cosa è successo dopo, si hanno capito quali sono i costi per spazzare chi va, per spazzare tutti i 29 comuni del consorzio di Bacino. Non si è capito se hanno migliorato il servizio, non si capisce a questo punto chi fa il controllo di gestione di questa società, perché capite bene che quando una società si autoreferenzia e si dà dei costi, e si dà delle valutazioni tutte sue, che non hanno possibilità di essere verificate, ecco qua entriamo un attimino in un grosso problema, perché noi come amministratori e come comuni consorziati non abbiamo chiesto a due pellegrini che passavano di gestirci la raccolta di fiuti, abbiamo messo su una struttura, abbiamo messo su una struttura che costa, che ha dei costi ben precisi, questa struttura. Abbiamo dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati, degli operai, abbiamo dei revisori dei conti, abbiamo i sindaci, abbiamo il presidente della seta, l'amministratore delegato. Ecco noi abbiamo tutta questa struttura per dire cosa? Che non sappiamo quali sono i costi che sono stati posti per definire, non solo il bando di gara, ma per definire i piani finanziari. Allora la domanda è, ma cosa stiamo votando noi questa sera? Cosa abbiamo votato le altre sere? È sconvolgente questa cosa, perché non si riesce a capire dove sta il problema, se è un problema amministrativo degli uffici comunali, di qualsiasi comune, ma se i documenti sono quelli che ci pervengono, sfido a qualsiasi professionista a leggere quei documenti. Ma allora è un problema politico, allora è un problema di chi controlla seta. Stiamo ancora aspettando un piano industriale dal nuovo socio di seta. Siamo sostanzialmente in mezzo al mare e ci stanno i cammin che fumano qua, ci stanno i portafogli che si sgonfiano con seta, con i commercianti dove vengono poi valutate le metrature con delle pistole laser, abbiamo delle famiglie che devono pagare delle bollette. E noi non sappiamo dire a queste famiglie come sono calcolati i costi, però riusciamo a votare dei piani finanziari senza sapere quali sono i costi della nostra più grande partecipata all'interno del Consorzio di Baccino, perché è l'unica che abbiamo. Ma questo è un modo di controllare, di fare controllo di gestione? Ma seta, il Consorzio di Baccino, perché non ci rispondono? Perché non ci danno dei dati certi sui quali votare, signori? Sui quali votare? Votare soldi pubblici? Quindi la domanda è cosa stiamo votando stasera, se non sappiamo da che cosa sono determinati questi valori? Quando poi basta a una società come seta, come il Consorzio di Baccino, dire due persone per tot ore per tot strade fa X E X come è stato calcolato? Sulla base dei costi di gara E come sono stati calcolati i costi di base di gara? Punto interrogativo Ecco, io vorrei non fare né il manager, né fare il direttore di impresa Ma vorrei semplicemente portarvi l'attenzione di che cosa stiamo votando E ricordarvi le responsabilità di fronte Non soltanto alla giustizia amministrativa Non sapendo a cosa stiamo votando Ma ricordando anche Che proprio in questa aula qua Il Movimento 5 Stelle chiese anche un'azione di responsabilità Non soltanto per Kind Che è poi andata in liquidazione Ma chiedemmo anche un'azione di responsabilità Per seta Per chi gestì seta Fino a poco tempo fa Stasera chiediamo anche Un piano industriale Che manca E chiediamo Ma anche perché mancano i costi Manca la contabilità analitica, signori Perché Ecco questo Il mio intervento Cosa stiamo votando Grazie Ci sono altre intervento Con il mio intervento Per il tuo zitteno E chiede Gargine Che è stata Ha Grazie a tutti.